Numero 12 Castellazzi, numero 4 Saletti, numero 8 Silvestre, numero 10 Snyder, numero 14 Guadalupe, numero 19 Cambiasso, numero 21 Cagliano, numero 29 Minito, numero 23 La Nocchia, numero 55 Nagatoro, numero 99 Cagliano, di donare il gioco, di donare. Il numero 81 Longo, il numero 88 Obivaian, alleatore signor Andrea Tramaccioni. Gagliano! 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 Grazie a tutti. Vogliamo ricordare chi non può essere fisicamente qui con noi, ma che dall'assù sta difando un biancazzurro. Vogliamo ricordare chi non può essere fisicamente qui con noi. Vogliamo ricordare chi non può essere fisicamente qui con noi. Non può essere fisicamente qui con noi, ma che dall'assù sta difando un biancazzurro. Vogliamo ricordare chi non può essere fisicamente qui con noi.